Buongiorno, benvenuti a questa iniziativa, da prima le scuse per la fila allo sbarramento per security ma siccome siamo un'azienda grande e complicata e questo è il suo headquarter abbiamo bisogno ogni tanto di avere qualche procedura per evitare di trovarsi negli uffici delle persone indesiderate. Voi siete molto desiderati perché rappresentate la sensibilità verso il disagio, cosa rara in un mondo in cui si guarda semplicemente alla sensibilità, al piacere. Sensibilità al disagio in un luogo particolarissimo come le stazioni, mi riferisco a questo anche se so che il vostro lavoro si rivolgerà anche alla forma urbana. Nelle stazioni dove si hanno gli ultimi rifugi per quelle che normalmente sono considerate le ultime persone della società, gli emarginati, i quasi senza speranza. E il fatto che qui in questo luogo spesso disattento, perché è un luogo di viaggio in cui la gente presta poca attenzione ai problemi altrui, vi sia invece un'attenzione e una capacità di riconoscere le persone che si trovano in condizioni disagiate. E il fatto di dover tendere loro una mano per dare una speranza, per dare loro la possibilità di ripresa, credo sia un fatto di grandissimo valore sociale, che noi come gruppo abbiamo voluto sostenere, mai diventato una spesa di tradizione, e che intendiamo sostenere ancora per i futuri in maniera ancora più possente. Sono molto contento che questa iniziativa poi abbia avuto in altri paesi analoghe esperienze che si stanno sperimentando, e saluto gli ospiti che arrivano dagli altri paesi e vi ringrazio di essere qui per poter condividere con noi le diverse esperienze per poter proporre anche, questo ritengo un punto importante, alle istituzioni ai vari livelli i giusti messaggi e le giuste richieste. Spesso abbiamo anche l'attenzione delle istituzioni, però altrettanto spesso questa attenzione è, se non istantanea, di brevissimo periodo. Poi c'è molto spesso il vuoto dell'attenzione, e soprattutto il vuoto nel considerare, quando si fanno i bilanci, le risorse necessarie per affrontare problemi che sono delle città, e che vedono in noi dei supplenti, delle organizzazioni volontarie, anche se fatte di uomini e di donne aiutate dall'impresa, ma che non hanno naturalmente la stessa funzione che deve essere svolta dalle istituzioni. Dico sempre che nella mia città, io vengo da Rimini, molti anni fa, ed era una tradizione di tutte le città italiane, c'era una casa dei poveri, dove la gente sapeva che poteva andare a dormire e trovava qualcosa da mangiare, ed era una cosa che veniva sostenuta dal Comune. Queste cose sono scomparse. Per carità, io sono molto contento che vi siano associazioni importanti che invece si stanno sostituendo a questa disattenzione istituzionale, ma questo non vuol dire dovere togliere alle istituzioni l'obbligo di pensare a queste cose. Sarebbe straordinario il pensare che da un lato si sostiene l'associazionismo, ma lo si sostiene a parole, e dall'altro ci si dimentica che questi sono i propri obblighi istituzionali. Questo è inammissibile. Lo dico perché se la Carita sta a Roma Termini perché diamo noi i locali, se l'Health Center sta nelle stazioni perché diamo i locali, se tutte le associazioni trovano in noi sostegno, non è giusto che le istituzioni non fassero il loro mestiere. E vorrei che nei loro bilanci mettessero questo problema come i problemi del mettere manutenzione stradale o del mettere arredo urbano o cose un po' più futili di queste che invece sono alla base della convivenza civile, soprattutto nelle grandi città e soprattutto nel mondo globale in cui la migrazione è un altro componente del problema del disagio sociale. Quindi credo che questo messaggio noi dobbiamo dare. Spero che dai vostri lavori vengano fuori cose concrete. Io vi invito a essere non indulgenti né con le aziende né con le istituzioni, ma di dire in maniera chiara cosa questi devono fare. Non basta venire a tagliare il nastro. Di quelli ne abbiamo a file. Ma se in città grandi non si riescono a tagliare due milioni per mettere a posto un centro non capisco come vengono fatti i bilanci. Non lo capisco proprio, insomma. Non so, io faccio il sindaco di un piccolo paese il primo problema che poniamo dentro la formazione dei bilanci che è proprio di questo periodo è quello di capire quelli che hanno zero reddito o sotto gli 8 mila euro di reddito pro capire come fanno vivere e quindi come facciamo a sgravarli della tassa sui rifiuti, della tassa dell'acqua, eccetera, eccetera e come eventualmente li sussidiamo. Se questa cosa è propria di un piccolo villaggio sono 600 residenti deve essere il fondamento dei bilanci degli altri perché se non si riesce a trovare una soluzione e si dimenticano questi disagi vuol dire che non si è in grado di produrre solidarietà in modo civile in una grande aggregazione che può vivere solo se pone a base della sua convivenza questi prima sentimenti che devono diventare regole per la conduzione della città e degli aggregati. Aggiungo quello che sta avvenendo in Europa in questi giorni nel Mediterraneo in Europa è l'esempio di cosa vuol dire anche dovere di volta in volta fronteggiare shock internazionali nemmeno più locali o di paese ma internazionali che vengono a stratificarsi sui normali problemi che devono essere gestiti quotidianamente per le realtà anche questo è un problema che noi stiamo vedendo ci stiamo attrezzando per potere anzi ci siamo attrezzati per potere dare una mano in questo in questa situazione in cui migliaia di persone in brevissimo tempo vengono a riversarsi sui nostri paesi e devono trovare una forma di assistenza in questo caso naturalmente ci colleghiamo a quelli che sono le istituzioni anche in questo caso ma diamo anche in questo caso dei sostegni perché lo dico adesso perché nel vostro tema c'è la congiunzione tra i problemi della urbanizzazione della forma urbana dello sviluppo urbano e i problemi degli aspetti sociali ecco dovremmo riuscire a ritrovare nella concezione urbana gli elementi di soluzione di questi problemi considerando tra quelli che sono i luoghi pubblici anche i luoghi in cui vi sia la possibilità per le persone che non hanno abitazioni che non hanno mezzi non hanno patrimoni di poter vivere e vivere in maniera decente e civile a fianco alle nuove una volta c'era sulle piazze italiane c'era il tribunale la chiesa e il podestà adesso abbiamo altre cose c'abbiamo i teatri c'abbiamo le esposizioni c'abbiamo le fiere e pensiamo sempre tutto quello ogni progetto urbano è fondato semplicemente sui poli di attrazione e di rilancio di uomini e di attività e soprattutto capitali non c'è più pensiero per quelli che sono gli elementi di base della socializzazione dovremmo recuperare anche questo e laddove ancora viene a essere rilansato il punto fondamentale di relazione nel mondo moderno penso alle grandi stazioni delle grandi sistemi di alta velocità che non sono come si dice treni di russo ma che servono ogni anno milioni di persone che riconcentrano in quelle zone disagi e problemi ebbene lì occorre che vi siano degli interventi e che sono interventi non solamente nostri ma anche delle istituzioni io vi auguro un buon lavoro vi lascio subito perché purtroppo altre cose devo dire naturalmente a tutti quelli che lavorano nei nostri health center e lo voglio avuto testimoniare questa mattina venendo qui che vi sosteniamo state facendo un buon lavoro verso la società che rientra pienamente nei nostri compiti sociali intesi come volontà del nostro gruppo e che dovremmo continuare a sviluppare queste cose è un elemento essenziale per poter coniugare la logica di impresa all'impegno sociale e in questo noi naturalmente vorremmo primeggiare grazie molto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti